buona domenica mi trovo sopra a longobucco in provincia di cosenza e stamattina sono venuto a prendere un po di questa buonissima acqua che sgorga queste sono castagne quindi un'acqua sicuramente buona leggermente ma leggermente amarognola ma di grande qualità si ha la fortuna di avere due fontane una addirittura molto con una grande portata vedete si fa presto fa riempire almeno 100 litri d'acqua questo è un bellissimo spazio adibito anche per fare piccnici hanno messo anche questi tavoli nuovi erano rovinati e hanno messo queste belle tavole ecco quindi se vi fermate qua trovate fresco tavolini rinforzate vedete una bella atmosfera magnetica lo scrocio dell'acqua e ancora un altro tavolo e anche questo barbecue quindi tutto organizzato bene perché no ma fa sempre fresco ecco qua non poteva mancare anche il padrone di longobucco